Ciao amici, per il nuovo club del libro del mese di febbraio facciamo una scelta un po' diversa. Rimaniamo sempre in tema D&D, ma io leggerò, e voi leggerete con me se lo vorrete, un libro un po' particolare. Il libro è Nella morsa del lupo di Steph Kirian, che forse alcuni di voi già conoscono. È un libro fantasy, il primo scritto da Steph Kirian. Chi è Steph Kirian? Ha un canale YouTube e un podcast che parlano di D&D. Infatti questa è la sua trasposizione di una campagna, che ha davvero giocato qualche tempo fa. Potete sentire la prima parte del libro letta da lui nel suo podcast, che vi linko qua sotto. Potete giocare un'avventura, che è sempre scritta da lui, che si chiama Forza dell'Alba Grigia, che io ho giocato proprio con lui nelle partite che facevano nell'antro dell'Angeo Master qualche tempo fa. Che è un prequel di questo libro. Il libro costa circa 15-16€, vi metto il link anche di questo se volete partecipare, oppure si può prendere ovviamente in ebook. Certo, non è come quello di D&D che trovate a 2,99€ in edicola, quindi... Però io ve la butto lì, io lo leggo, vi faccio compagnia se volete seguirmi. Vi leggo intanto anche cosa c'è scritto nella quarta di copertina. E poi cercherò di organizzare, se possibile, una sorta di Q&A finale con l'autore, se è disponibile, nel quale possiamo rispondere alle domande che ci vengono in mente. E niente, se volete seguirmi, quindi mi raccomando, nella Morso del Lupo per il mese di febbraio ce lo leggiamo, a marzo quindi ne parleremo. Vi farò degli aggiornamenti come ho fatto per il libro prima, per il buio profondo, durante il mese. E se riusciremo, organizzeremo alla fine un incontro con l'autore. Vi leggo la quarta e ci sentiamo poi negli aggiornamenti. Nelle remote e fredde terre dell'Ajmir si incontrano le strade di quattro viandanti. Il cacciatore di mostri Slyvan Phanel, il discepolo dei maestri di cristallo, Valadie Bandargar, il necromante Rexir e il druido Owak. In fuga, dopo essere stati attaccati da una misteriosa creatura, si ritrovano per effetto di un incantesimo su Uriel, un mondo parallelo dove regnano terrore e sofferenza. Per riuscire a tornare a casa dovranno sconfiggere quattro mostri che minacciano Uriel, e uccidere l'aquila di sangue, lo spietato despota che domina quelle terre. Ma giorno dopo giorno il loro piano si complica sempre di più, mentre il lento emergere di un doloroso passato inizierà a metterli l'uno contro l'altro. Quindi, romanzo Dark Fantasy, questo è certo. Cercheremo poi con l'autore di capire magari quanto della storia originale è finito nel libro, cosa ha dovuto modificare, perché l'ha dovuto modificare, ci sono stati problemi di copyright, glielo chiederemo alla fine. Noi ci sentiamo all'aggiornamento, ciao. Noi ci sentiamo.